L'incontro sul protocollo dell'Agenzia delle Dogane con gli operatori abruzzesi è il segno tangibile delle intenzioni dichiarate dal governatore Luciano D'Alfonso già prima della sua elezione. Il primo punto fondamentale era il piano delle infrastrutture, su gomma, su rotaia, su mare. Lo aveva detto e ripetuto più e più volte. E così, ripartita la SNAV dal porto di Pescara, dopo tre anni di blocco, ora si pensa a far funzionare il mercato dell'impresa internazionale oltre mare. Facilitare tutti gli impedimenti burocratici che fanno demordere gli imprenditori abruzzesi quando scelgono di aprirsi ai mercati esteri. Inizia così l'attuazione del piano D'Alfonso sulla mobilità in Abruzzo. C'è bisogno di mettere in utilizzo quello che si è fatto con molto denaro pubblico nei decenni passati e negli anni passati. C'è bisogno di intercettare chi ha bisogno di spostamento, persone, merci ma anche idee. Per essere preferiti quando si dispone di questo livello di infrastruttura c'è bisogno di contenere i costi di utilizzo, c'è bisogno di esibire la vicinanza, la prossimità e poi c'è bisogno di mettere in campo la facilità nell'utilizzo, la semplicità. Su tutto questo bisogna andare molto oltre il piano integrato dei trasporti, bisogna andare e arrivare ad un livello di utilizzo ottimale di queste infrastrutture. E poi una critica rivolta all'aggiunta ai chiodi. L'Abruzzo ha visto deteriorarsi un settore fondamentale per il suo sviluppo e la sua economia. Sono stati anni difficili e ora ci sono molte cose da far ripartire. C'era una specie di spezzettamento di strutture. Noi per esempio per quanto riguarda i porti dobbiamo completare i piani regolatori portuali e dobbiamo realizzare le opere a mare, ma anche a terra che consentono ai porti di funzionare. Poi dobbiamo connettere i porti col ferro e con la strada. Tutto questo, dopo che lo si è fatto, bisogna anche farlo sapere al mondo. E poi bisogna essere anche semplici, facili nel dire i sì rispetto all'utilizzo. La dogana che viene a firmare questo protocollo è importante perché ci consente facilità e semplicità nell'utilizzo.